Buongiorno ragazzi, allora l'argomento di oggi riguarda un grande ritorno, che è il ritorno della terza declinazione. Il ritorno della terza declinazione con l'inserimento anche degli aggettivi della seconda classe, che probabilmente avete iniziato a vedere anche in latino. Ma andiamo per ordine. Ora, in realtà, avevamo già accennati questa tipologia di sostantivi che andremo a vedere. Ricordatevi sempre che noi abbiamo visto precedentemente altre tipologie di nomi della terza, ovvero quelli in velare, per esempio. Quelli in velare, k, g, k, che avevano una caratteristica che assieme al sigma diventavano xi, e quindi abbiamo ad esempio trix, tricos, poi anche al dativo plurale trixi, perché sarebbe trix più si, e il vocativo plurale che è uguale al nominativo. Poi avevamo questo che abbiamo visto anche a lezione, cioè gune, gune, cos, una tipologia particolare di sostantivi che ha due temi differenti, e quindi non fa guinaix, guinaicos, ma al nominativo, così come al vocativo, ha questo particolare tema guine, che potrebbe sembrare un nome della prima declinazione, ma poi per il resto si declina completamente seguendo guinaic, e quindi come se fosse uno di questi nomi in velare. Successivamente abbiamo visto quelli in labiale, che avevano la caratteristica di diventare ps, e quindi abbiamo fleps, flebos, poi abbiamo flepsi, al dativo plurale. Infine abbiamo visto quelli in dentale, che invece cadevano senza lasciare traccia, e avevano anche la doppia forma per quanto riguarda l'accusativo, o in alfa, come avevamo visto fino a quel momento, o in ni, e quindi abbiamo ad esempio puspodos, che vuol dire piede, che fa posi, al dativo plurale, oppure caris, caritos, che fa carin, all'accusativo, e carisi, al dativo plurale. Andiamo quindi ora a vedere invece questi nuovi nomi, che sono quelli col tema in NT. Temi in NT, che ritroveremo prossimamente, perché vedremo anche il participio, e quindi alcuni participi fallano così, e sono in ant o in ont, vengono divisi in queste due macro-categorie, anzi micro-categorie, e per quanto riguarda i temi in ant, quando sono sigmatici, cioè al nominativo ad nel sigma, c'è la caduta di NT e allungamento di compenso. Adesso andremo a vedere che cosa significa. Con i temi in ont, c'è la caduta della dentale e l'allungamento organico della vocale del tema, e anche qui andremo a vedere cosa significa a brevissimo. I temi in ont e ant baritoni, quindi hanno il vocativo singolare in puro tema, con la caduta del T finale, e invece quelli ont o sitoni sono uguali al nominativo. Per il datico plurale, ont e ant più si vedono la caduta di NT e l'allungamento di compenso, ma andiamo a vedere che cosa significa esattamente questa cosa. Andiamo a zoomare, così è più chiaro. Abbiamo l'esempio primo di gigas gigantos. In realtà leonleontos l'avevamo già visto, ma andiamolo a vedere di nuovo, nuovamente, più nello specifico. Gigas, gigantos, giganti, giganta, gigan. Qui avviene esattamente quello che dicevamo. Perché? Perché qui, vedete, c'è un allungamento. È gigas. Doveva essere gigants. Ok, gigants gigantos. La, anzi gigantos, cade nt e la si allunga. Poi abbiamo il vocativo, che è an, ma senza la lunga, senza l'allungamento. Quindi non c'è la lunga, ma rimane la sua lunghezza. E, infine, gigasi. Quindi nt cade. E abbiamo il mantenimento. Queste sono le tre caratteristiche. Andiamo a vederne uno, invece, in on. Leon leontos, ad esempio. Quindi abbiamo leon, ma qui abbiamo leontos. Questo vuol dire che c'è stato un allungamento. Cioè l'omicron è diventata o lunga. E quindi abbiamo traccia effettiva, al contrario di gigas. Perché, se vi ricordate, le uniche vocali che hanno un corrispettivo lungo visibile sono epsilon e omicron, che hanno rispettivamente eta e omega. Poi, al vocativo, invece, leon, come vedete, non ha l'allungamento. E poi abbiamo questa particolare forma, leusin, per quanto riguarda il dativo plurale. Questo perché, come potevamo leggere anche qui, in fondo, scompare nt e nt con allungamento di compenso della vocale. L'allungamento di compenso, in questo caso, è l'allungamento, appunto, della o che diventa u, sostanzialmente. Quindi, questa è la prima parte. Se poi andiamo nel libro di grammatica, vedete che esistono degli aggettivi che hanno... Lo potete leggere qui. Le uscite del nominativo singolare degli aggettivi con il tema nt possono essere così riassunte. Ant, e si dividono gli aggettivi da una o tre uscite. Ad esempio, akamas. Ok? Akamas, questo è il nominativo, akamas, akamantos, è un aggettivo che si declina utilizzando esattamente la stessa declinazione del nome in ant. Abbiamo poi quelle in tre uscite, come il più celebre di tutti, pas, pasapan, pantos, pases, pantos. Pas, pasapan segue per maschile e neutro una declinazione che è molto simile alla tezza e invece per pasa continua a seguire la prima femminile che già conosciamo. Poi abbiamo quelli in ont, a tre uscite, on usa on, come vedete, a con accusa a con, che segue esattamente pas, pasapan, e poi quelli a tre uscite con ent, che è un'altra categoria, carieis, cariesa, carien, che anche qui seguono quelle declinazioni lì, ma andiamola a vedere più chiaramente all'interno del nostro libro. Quindi andiamo a togliere lo zoom, e andiamo alla pagina specifica. Allora, con la magia del montaggio siamo agli aggettivi della seconda classe con i temi in n e t, quindi qui vedete li divide in temi in ant, per esempio, e esempio il più celebre di tutti, che vuol dire tutto, quindi lo troverete tantissimo, c'è il famoso modo di dire che vi ho citato anche a lezione, ad esempio pantarei, tutto scorre, come vedete qui segue la terza declinazione, qui invece segue la prima, Creo di essermi confuso con lunghe e brevi che ho letto come accenti, comunque in linea di massima l'accento in realtà è sempre sulla prima. Cosa stavo dicendo? Praticamente quindi qui segue le stesse regole che abbiamo visto per i sostantivi della terza in n e t, con pass, qui pantò, spantipanta, e qui pasi, la caduta di n e t, quindi nel caso del nominativo, vocativo, e nel caso del dativo. Per quanto riguarda il neutro, è più o meno la stessa cosa, perché c'è pan, in cui è caduto il sigma, e qui abbiamo sempre pasi. Andiamo agli altri esempi, sono quelli dei tema in ent, i tema in ent, quindi il nominativo singolare, sigmatico, eccetera, eccetera, quindi da una serie di caratteristiche, e poi lo andiamo a vedere, carieis, cariesa, carien, carientos, carieses, carientos, e così via, con la caratteristica che, qui n e t è caduto, ok, qui c'era n e t, questa parte qui, questo n e t, qui è caduto, quindi è diventato carieis, il vocativo si differenzia, è carien, e poi abbiamo cariesi, sempre con la caduta di n e t, e qui segue, come al solito, la prima declinazione, e qui nuovamente il neutro utilizza la terza, poi abbiamo quelli in ont, che seguono esattamente lo stesso schema, quindi, anche qui, con allungamento, in questo caso, a con, che non c'è però al vocativo, l'n e t è caduto, e poi, a cusi, con allungamento di compenso, niente di particolare, ricordatevi che, come del resto in latino, e come gli aggettivi della prima classe, gli aggettivi concordano in, nel caso, genere e numero, al sostantivo a cui si riferiscono, ma avremo modo per vedere, ulteriormente, gli aggettivi più avanti, perché il libro, dedicherà ampio spazio, come al solito, il vostro libro, è piuttosto confusionario, nel presentare, le varie parti, però, visto che cita, anche gli aggettivi di seconda classe, è bene che comunque, noi li vediamo e conosciamo, il prossimo argomento, invece, sarà il participio, il participio, e qui vi spiego il motivo, per cui è importante conoscere, il, la declinazione, ad esempio, di pas, pas, a, pan, è perché, come vedete, seguono, quella che è lo schema, dell'aggettivo di seconda classe, in nt, con, vedete, l'uon, l'usa, l'uon, eccetera, eccetera, ma questo è argomento della prossima lezione, ci vediamo presto, ciao! ciao! a, Grazie a tutti.